Ciao a tutti, sono Riccardo, co-founder del brand The Silted Company. Ciao, sono Nicola e sono co-founder del brand The Silted Company. Silted nasce dall'unione di due le nostre grandi passioni, quella per il mondo dell'abbigliamento e quella per il mondo del surf, ma anche per colmare l'esigenza di trovare uno stile che ci appartenesse. L'idea è nata per gioco, è cresciuta grazie alla nostra passione e dal supporto di tutto il nostro team. Il processo creativo parte da ogni nostra nuova esperienza, perché per noi ogni capo non è solamente un prodotto, ma molto di più. La collezione primavera e estate è ispirata al mood californiano, unendo colori e grafiche alle nostre idee e modelli. Mare shirt, desillusion pants, palm t-shirt. L'idea è nata creando capi da uomo che rispecchiassero il nostro gusto personale. Nonostante ciò vediamo le nostre collezioni adatte al pubblico femminile, considerando ormai superato il concetto di genere nella moda. Grazie alla stampa per l'intervista, ci vediamo in acqua.